Oma aperitivo Benvenuti, benvenuti, volete calziamo un po' il volume? Magari quelli che sono qui davanti gli spacchiamo le orecchie Alpassiamo? Alpassiamo, alpassiamo un po', alpassiamo un pochino Voi al centro, volete il volume un pochino più alto Voi seduti sotto l'ombrellone, il volume va bene? Alziamo un po', dobbiamo alzare un po' Va bene così, va bene così, va bene così Va bene così, va bene così Intanto rifilmiamo un po' che li mettiamo su YouTube Mi raccomando, belli, bei look, bei sorrisi Li mettiamo tutti su Facebook, avanti, gioca stasera, più tardi Ai Paolo, Paolo Tastaglione, pronto a suonare Tanto abbiamo giocato un po' con la console digitale, con l'iPad Vai, vai, oh ma Pallo Tastaglione è una figa in bocca, l'ho visto proprio io Pallo Tastaglione è una figa in bocca, l'ho visto proprio io Grazie